Ed è il momento ora di presentare un altro grande della musica. Già so che tutti i suoi fans nel mondo sono all'ascolto di Buongiorno Italia, come in tutte le nostre puntate, ed sto parlando del grande maestro, il poeta con la chitarra, Franco Simone, che insieme alla dolcissima Miriam Hernández ci regaleranno questo nuovo loro brano. Ecco, lo ascoltiamo insieme? E vai! Ecco il momento esatto che aspettavo io, ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo. Non si tratta di cambiare niente di quel che sei, di quel che fai. E come sorridi e forse neanche tu lo sai, quanto spazio hai liberato adesso intorno a noi.